Musica Benvenuti al consigliato appuntamento con le previsioni meteorologiche. Andiamo a vedere insieme il meteo per la giornata di sabato 6 aprile. Cominciamo da Avellino con nubi in progressivo aumento e piogge rovesce anche a carattere temporalesco dal pomeriggio. In attirazione dalla sera i venti saranno deboli. Ad Ariano nubi in progressivo aumento con piogge nel pomeriggio. A Baiano nubi irregolari con rovesci moderati. A Lioni nubi in progressivo aumento con piogge anche a carattere temporalesco dal tardo pomeriggio. Solo in serata ci sarà un'attenazione. Cervinara nubi irregolari con rovesci moderati. La sera nuvoloso con locali aperture. A Napoli nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. I venti saranno deboli, mare poco mosso. A Salerno cieli molto nuvolosi con nubi sparse alternate a schiarite. I venti saranno assenti o deboli, mare poco mosso. A Benevento nubi in progressivo aumento con piogge e rovesce anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. In attirazione dalla sera i venti saranno assenti o deboli. A Caserta giornata del complesso variabile con nubi alternate a schiarite più ampie durante le ore centrali del giorno. Nella notte sono però previste precipitazioni. I venti saranno deboli. Le temperature. A Avellino temperatura massima di 16 gradi, 7 gradi la temperatura minima. A Napoli 16 gradi la temperatura massima, 12 gradi la temperatura minima. 17 gradi invece la temperatura massima a Salerno, 13 gradi la temperatura minima. A Benevento la temperatura massima potrà raggiungere anche i 21 gradi, mentre la minima si attesterà intorno ai 9 gradi. A Caserta 20 gradi la temperatura massima, 9 gradi la temperatura minima. Ed è tutto anche per oggi. A presto.